Let's go butchers, sono finalmente tornato quindi iniziamo con il format video Chi mi segue sulla pagina facebook sa che ho postato alcuni video che verranno messi nei prossimi giorni Come per esempio XR2 VSM8, qual è meglio tra le due armi, che cosa fa una, che cosa fa l'altra Cuda VSVMP perché molti dicono io mi trovo meglio col cuda, io con il VMP, bene analizziamo queste armi E poi un'altra cosa molto interessante che sento molti parlare quando creano la propria classe eccetera eccetera E' mirino ole VS mirino reflex, cioè qual è meglio dei due, cosa fa uno, cosa fa l'altro, dov'è il cambiamento Cosa è la differenza tra usare un mirino o l'altro, poi altri video come funziona il rapid fire, come funziona il calcio anteriore Come sapete ho già trattato questi video ma voglio andare più nello specifico Spiegare come funziona anche la compensation e le connessioni su Call of Duty e la broken cam Cioè una cosa che forse molti di voi non sanno è che c'è un piccolo ritardo da quando una persona esce magari da dietro un muro o fa qualcosa Quindi anche questa è molto diciamo utile per ai livelli di gioco Stessa cosa come funziona la sensibilità e l'automira Allo stesso modo farò vari personal trainer nella mente di power Analizzerò come farò le nucleare anche come facevo nella mente di power quando gioco scrim, arena eccetera eccetera Comunque passiamo subito al video e analizziamo quelli che sono l'ole e il reflex Due nuovi tipi di mirino Il reflex ho chiamato anche red dot o un mirino rosso Non lo so come lo chiamate voi venendo anche da vecchi Call of Duty Comunque è uno dei mirini più classici del gioco il reflex Mentre l'ole è un nuovo mirino che è stato messo con questo Call of Duty In questo caso stiamo parlando di un mirino che non ha una lente Non ha una diciamo una sorta di barre che tengono questa lente E ha il red dot cioè il puntino rosso in questo caso che non è rosso ma è arancione Ma parliamo subito di questi due mirini Cosa si differenziano, qual è il cambiamento Se c'è un cambiamento perché è quello che voglio spiegare Per prima cosa il tempo di mira di avere l'arma a destra e mirare Cioè il tempo che voi premedete il guerletto sinistra mentre siete in corsa o siete fermi eccetera eccetera È lo stesso Non cambia assolutamente niente Non c'è un mirino più veloce o più lento Quando si mira entrambe le armi si muovono uguali Cosa vuol dire questa cosa? Questa cosa è chiamata lo sway Cioè l'ondeggiamento dell'arma quando si mira Alcuni dicono no l'elmo si muove di meno, il reflex si muove di meno No, non è così In verità tutte le armi si muovono allo stesso modo Non c'è nessuna penalità nell'usare questi mirini Ma alcuni dicono che il reflex zoomi di più Questa cosa forse è vera ma non è notabile a occhio umano penso Ho cercato un pochino su internet Come sapete c'è un sito che si occupa di avere tutte queste statistiche, dati eccetera eccetera Sugli attachments, sulle armi, sui perk eccetera eccetera E ho scoperto che il reflex zooma di un non notabile Parliamo diciamo questo 0,1% Quindi la differenza è di un piccolo zoom che si ha in più con il reflex Che sinceramente non cambia niente ai fini dello zoom L'elo comunque è un mirino che rende una visione migliore Perché molti puristi sicuramente preferiscono il reflex Nello dai vecchi Call of Duty Però il mirino elo è più aperto e pulito E non avendo una lente su cui si riflette il punto rosso Ha diciamo una migliore visione in questo caso Perché come sapete in Call of Duty ora ci sono gli effetti di luce, grafici eccetera eccetera Sulla lente del reflex ogni tanto si possono notare e magari dare una piccola distorsione Allo stesso tempo la grandezza del punto rosso e del punto arancione è la stessa Cosa cambia in questi mirini? Cambiate voi o il cosiddetto effetto placebo Non pensate il reflex fa più schifo o meglio l'elo o questo cosa Anzi forse molti di voi pensano questo E quindi utilizzano un mirino rispetto all'altro Quindi non c'è proprio una differenza sostanziale Usate il mirino che più vi piace, è uguale Spero di avervi delucidato su questo reflex versus elo O leo in questo caso scusatemi Io giocando sempre in inglese lo chiamo elo Spero che vi sia piaciuto questo video Se ne volete vedere altri, se volete avere altre informazioni su queste cose Fatemi sapere qui sotto E ovviamente vi ricordo che come in ogni video a 1250 like Uscerà il video completo della nuke O la cosiddetta class overpower In cui spiegherò la classica usata, come giocarla Eccetera eccetera Spero vi sia piaciuto questo video Butchers, ci becchiamo al prossimo video Let's go!